Cari amici, followers, oggi parliamo della più grande puttana mai esistita, la grande, si fa per dire, imperatrice del creato, colei che, quando vide una mia foto al mare in mutande, si fracicotta al punto da spingere a tutti i costi per il mio sequestro, per poi addirittura farmi diventare la moglie di suo marito, probabilmente un ricchione da antologia. Questa troia stellare, questa baldracca galattica, questa meba cosmica, è alla guida delle impresentabili superossute dell'Opus Dei, e questo spiega molte cose, nonché, leggenda narra, che si diletti con il canto, e a tempo perso giochi a fare il Papa Nero. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.